buongiorno da obiettivo news oggi 2 maggio e sant'atanasio e della giornata mondiale del tonno molti paesi dipendono fortemente dalle risorse di tonno per la loro alimentazione ma anche per lo sviluppo economico le nazioni unite hanno istituito la giornata mondiale del tonno il 2 maggio per sensibilizzare sull'importanza del tonno e promuovere pratiche di pesca più sostenibili ratificata dalla nazione unita nel 2011 la giornata sebbene sia caratterizzata la celebrazione con balli canzoni discorsi e gare nelle isole salomone in papua 9 guinea è celebrata non solo come un giorno di apprezzamento ma soprattutto per educare il mondo sull'importanza del tonno per le economie locali mezzi di sussistenza e sicurezza alimentare oggi è anche la giornata nazionale della frittata e la giornata internazionale dei tartufi tra i nati in questo giorno annoveriamo donatella versace 1955 e francesco facchinetti 1980 tra i scomparsi ricordiamo leonardo da vinci 1519 a andien a a ah Grazie a tutti.